Ragazzuole ragazzuole benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite E oggi ragazzi siamo tornati con un torneo dove si vince una bellissima skin Anzi un bundle completo di Shivenom Sto parlando ragazzi del torneo della Symbiote Cup dove appunto bisogna fare la top 1200 in Europa Per aggiudicarsi tutto il bundle completo della skin Cosa che chiaramente io insieme al mio domain abbiamo raggiunto Abbiamo sbloccato tutto l'intero bundle e devo dire che la skin è veramente bellissima Quindi in questo video vi andrò a far vedere una bellissima vittoria reale E poi altre partitozze molto interessanti per farvi vedere appunto come abbiamo sbloccato la skin E come abbiamo raggiunto la top 1200 Quindi ragazzuoli mi raccomando di cominciare con il video Un bel pollicione in su per supportarmi Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E vi ricordo che mi trovate in live streaming su Twitch tutti i giorni dalle ore 17 Quindi io vi aspetto anche solo per un saluto link in descrizione Ora però ragazzi direi basta parlare perché è arrivato il momento di passare al video Io signore e signori vi auguro una buona visione Vabbè poi la regolò subito con il mixer quindi Se mi dà fastidio la basso subito Sono un team Vabbè ora uno morirà Preparati C'è uno che è lento da te? Sì Adesso È qua sopra È sceso? È andato qua dentro? Sì 71 Morto 71 anche l'altro Prendilo Sì sì Mendo il second E non ho ancora il pump Non mi viene Ah ma il second è tornato a 50? Sì ma solo vita 50 75 in tutto Stai curando Siamo che però farti medikit avanti a me non lo so se ho un'idea non so eh Quindi ti lascio questa cosa se vuoi Dì sì Dietro c'era l'entrata gente di qua Verso il ferro dici? Sì hai sperato al bot Sì 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 Lo faccio al volo che c'ho un pump a verde Pricey 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 Guarda lì Aspetta voglio fare una cerchina di una No ma sono ne hai questi Fermo Fermo Vai vai Fraccato Poi si è fatto cadere da solo No ma dai Chicken god E te l'ho detto che non serve il rank Si ho capito ma così è grave Dai perché mi hai trattato? Wow Scororo Questi qua tipo Sono peggio delle auree Questi qua che fanno tipo così No questi qua sì Questi qua sono terribili Questi è come mi immagino tipo quelle persone Quando magari che ne so Tipo mi crescono tipo delle clip fighe no Tipo dai imbottate no? Per intenderci E c'era un periodo in cui tipo io mettevo tutti i titoli Tipo un po' clickbait Tiktok tipo Mi reportano per aim Si vari no? Per farlo a posto Per fare visita Eh vabbè si è fatto tutto E te lo giuro 90% dei commenti erano Non ci credo che che ti fai schifo Che p***e Ecco perché sei così Ecco perché sei così forte Ora capisco Blah 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 Questi qua che abbiamo ucciso E come mi immagino quelli che commentano così Te lo giuro Vogliamo fight out Oh 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 Mi han distrutta Brutto adesso arrivo Ah con la motosega questo è un problema Non è più uno 190 Skin blue Vengo a fare visita con te 60 105 Lo scioppo È morto Sale l'altra Oh f*** Ho arrivato 80 C'ho uno di vita io Non vengo a te L'hame di questi? Boh non lo so Boh da console questi È probabile perché minchia Ancora davanti Si è spaventato Si si no no Fa hit assurde Te lo giuro Non so come mai sto arrivando 20 96 È arrivato l'altra In aria 130 Carissimo Spiro da dietro 25 Morto Nice Stato arrivo a 96 Lo spotto 30 20 Lascio auto scarico Sto per l'andare Vado proprio davanti a lui Ah no ok vengo da te Vengo da te Ho dato 55 37 1 Lo devo ricaricare Posso andare qua da solo Si 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 faccio solo il big Si Mi ho attenti dietro che c'è un altro team Ok mi box allora Vengo a fare play forse Si 20 Non se l'ho cambiato box 1 HP 1 Anche io Anche io Sto skin verde One shot Con auto auto Mi do'occurare 20 dopo il medal 40 Ecco da me questo Arrivo 30 Nice Non mi sta feitando Si sono 50 Full box 70 70 Morto Get the fuck out C'ho scopa per te Scopa Dove sta il suo piccioncino Oh Guarda qua Dai poveri Oh Ho messo le Uzi Minchia ho paura Tomb Raider 50 si è in testa Senta 7 È caricato quello sotto L'altro sta scappando dietro Vado a prendere Il lato è questo Ma è tornato indietro mi sa Mi sa che Lo sento ancora Altro team Se vuoi Possiamo fare meda Arrivo Arrivo Ecco da me Ecco da me One shot Morto Morto E' mai amico Scampagno nei suoi Nel tutto Il 27 Altro team adesso mi spara Il 27 Che accade la kuno 120 Confessivo Spento all'altro È arrivato l'altro team Scusa È arrivato l'altro team L'altro team Esche 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 Vabbè 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 Non riuscivo Minchia Che sfiga di merda Un secondo e facevo la scopa Dai Dove devono andare stiano da lì Quindi in caso puoi fare Tutto le scopa E prendere la card dopo Non mi sa più il vado a killare Ok Fa due la zona Dopo fa cinque No è C'ho medikit Scopa però Ulti medikit Pratica 5 Quello Appena dopo si apre la zona Ci sta Se te lo fan fare Il prossimo è un posto lì La prossima torna sulla montagna Lì ho il forecast Morire in volo Secondo te Non mi spara Non ce l'ha fatta Non ha ficcato ancora il po' A me e tre A posti Guarda Che vanno starato Hanno starato 8 team Non sono ancora morta Prova a vedere se c'è qualcosa qua Senti al volo Vabbè Incredibile ragazzi Abbiamo un altro wall Forse di qua Forse di qua Stiamo da sinistra Sto ricaricando Sto ricaricando Crackato Vabbè dai Va bene Vi ha messi ovunque 81 Sotto non c'è Mai uscito 87 Crackato Penso il top Full box Guarda 6 Sto guardando avanti Che non ci spanno Morto 81 crack Spider Merd Sto baggi da Mi dumpano in Non c'è Ok ok Oh lì Mi faccio VZ Un mini Un mini Giusto in caso ci chop Non ho fatto 5 La vedi le prossime zone Sì sì la vedo Devo ricaricare 50 Morto 81 81 crack Morto Crackato quest'altro Ah è l'ultimo È white Cracks Dai bro Non è così Sera Perché pensa di Clacciare Ma non lo so Non lo so Non lo so No Sì sono tre Una ha preso il toping Due team Oddio mi sa che sono quattro Sì sono meglio però Sono ok per ora Vengo Sono a posto Sono a posto Alivato Aspetta Voi ruolo proprio Sì 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 Ok possiamo andare se vuoi Ho tutto Ah arrivano 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 C'è uno qualcuno qua Ti sta guardando Mi sa Ti ha visto te 100% Nel medal Non so cosa stia facendo Siamo pieni di flash Quindi possiamo stare in zona I bro pensano Adesso li ultiamo qua Sì 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 Io sono ancora un medikit Aspetta Ok Allora C'è il feed qua Alto medikit Tu già sly il feed Arrivano 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 Ok Devo farmi il medikit Devo fare il medikit Ce l'hai tu ce l'hai tu Non posso ropparla Aspetta Devo far meno flash No no Devo far meno Non lo faccio no Spare il volo Morto Buon un hit What? La Lidl a casa è arrivata Quindi hanno fatto la surge base Praticamente sul bunker Sì guarda il medal Qua davanti noi proprio Sì sei vista 29 doppia lacuna Ho fatto triplo 9 il primo Eh aspetta 20 mi serve Bene ma la fai tono Aspetta che volevo osservare Morto Non è vero Eh dink così si fa Possiamo andare? No 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 ma no dobbiamo fare il dodge Il feed feed Vai vai faccio Sono per il giorno Non sopra Ah vai Stacetto Stacetto Già pot Devo stare sopra Oh no sono sceso Ci sono Sono qua Sono boxata Aspetta Possiamo guardare qua Tipo Spossa qualcuno Qua passano Sì sono visto Visto Faccio Fatto Sì uno a sinistra Uno mi ha taggato Dai che da me sono perfetti Sì sì sono con te Faccio un big Faccio un big Faccio un big Sono un big Mi do fastidio C'è ancora uno qua sopra Ha usato il dash Quella è tipo qua Dito di me così Lì c'è una È morta C'è un altro C'è un altro C'è un altro Cato bianco Ho 100 di legno Io solo Tieni C'è un solo C'è un solo C'è un giamparlo Tieni Preso tutto 100 Morto Morto Facca avanti Ho legno Legno È morto uno Preso Morto 100 Ho preso Ho preso Io ce l'ho Ce l'ho Io uno Ho mazzo Ok Ho sentito C'è uno sopra di noi Sì ho sentito Qua 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 Morto 100 Uno fuori Che zona C'è un subito davanti Sono qua C'è uno qua Ci ho fatto 100 Ho preso Ok sono capi legno Capi legno Tieni Faccio una splash Intanto per te Poi per i white Un medica Quanto splash Vai da qua vai Però sa di dire che devo fare heal off eh? uno l'ho killata sono pure splattata lui stavo facendo giolo e splash e fu la che è andato a stradietto non ho preso la kill vabbè lì 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 finito è tutto super è solo perché il finisceva solo un kit ok io a livello di armi ci ho messo troppo bene anche io ho il fan nuovo tre colpi oggi ora oh sparano 35 doppio traccato 50 ter 35 white non ho più mazzi sono venuti veramente dande vuole questi c'è è bruttissimo vediamo un quad se c'è qualcosa dobbiamo farmare più che altro ok che li sto facendo hai un bush qua sopra attento non sta mai qualche matto c'è guardano davanti quelli nel mattone non ci voglio credo eh ho visto però in teoria esatto si così non ci vedono oh davanti dopo i safe faccio fidati andiamo dietro loro sono fermati qua no vedi non è real possiamo andare 35 35 ancora 35 50 75 75 faccio fid questo è un kill anch'io ho usato anche il dash ho usato anche il dash non perfetto faccio mini fai con noi fai con noi fai con noi fatto ho saltato ho usato l'ho ho usato ma non è che sotto mi sapeva ma non è nostro aspetta è morto muerto muerto arrivo sali sali si non ce l'ho fatto Sì qua, sì qua Passi sul mio wall, and out for his safe Ok sopra, ok sopra, ok sopra Qua da me, 60 And out for his safe anche lui, l'ho pillato And dobbiamo entrare dentro per forza, vieni Billato, non vedo Passa Ardol Dobbiamo passare, dobbiamo passare So con te, so con te Vai di da una mano Lasciamo da qua In caso le splash Sì 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 Hai art, ho 9 build in linea e basta No no, 5 build in ferro, tieni Vuoi darmi le splash, eh? Sotto non è mia Ah, non ho messo wall, non ho messo wall Ho lasciato le splash Ma di in love forse, aspetta un grande po' Sopra di me, sento, morto Ho dovuto mettere l'hard wall, ma di in love, ma di in love Vai 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 Un is più un altro, full low Sì sì sì, io sono... Tu gioca, tu gioca Sì 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 Prova a griffarteli Sento Io forse hai prenduto 2 kills Bravissimo Con scolto sto facendo medikit qua sotto Uno l'ho già preso Con scolto sto facendo medikit qua sul mio ping Sto facendo medikit qui sotto se riesci a scendere sul mio ping Era pure white l'ho bombata Peccato 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 sì Minchia non morivano più Ce nero non sa cosa va in love Anzi meno male che qua avevamo l'animele perché sennò buona fucking fortuna Sì infatti Perché quando siamo scesi giù con l'animele Sì da fuori sei sono fermati lì No infatti boh Quella mi sa che sono morti pure Sì ce la diamo zi Vedi che c'è vedi Guarda Guarda quella total black Madonna che schifo Dai zi non è vero Oh comunque veramente Non si può vedere Secondo me stai esagerando Sto esagerando Guardala Vabbè però Oh senti Però ti lamenti che c'è due skin gratis così Ed eccoci ragazzi Alla fine del video Come avete visto abbiamo fatto la bellezza di 335 punti E abbiamo concluso nella top 510 in Europa Per vincere la skin appunto bisognava fare 1200 Quindi direi che ci siamo entrati egregiamente Vi faccio vedere anche tutto quello che abbiamo ricevuto Iniziamo con la skin più bella che è quella di shi venom in total black Veramente super super bella Poi abbiamo anche agony tutta così violetta con questi capelli Mi piace un pochettino meno vi dico la verità Poi passiamo invece ai picconi Che abbiamo ricevuto appunto questo qua Dello stile viola che è molto molto carino E poi i doppi picconi invece della versione appunto di shi venom Concludiamo alla fine con gli zenate Abbiamo appunto il lama sempre violetto E invece poi per shi venom Abbiamo invece questi due picconi Con questa roba tipo di ragno un po' strana Ovviamente ragazzi la cosa più bella della skin Ovviamente è solo esclusivamente shi venom Perché è veramente veramente una skin Secondo me è molto 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 carina Che dire ragazzi Altro torneo vinto Altra skin sbloccata Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando se non l'avete ancora fatto Spolliciate più in un posto questo video Per supportarmi Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto E se volete godervi altri momenti come questi Sempre su fortnite Vi ricordo che vi trovate in live tutti i giorni su twitch Dalle ore 17 Link del mio canale qui sotto in descrizione Ora però ragazzi noi ci dobbiamo salutare Ma non vi preoccupate perché chiaramente ci ripetiamo in un prossimo video Dalla vostra Kratomist è tutto Bella a tutti ragazzi Ciao